Un saluto a tutti e ben ritrovati in questo mio canale Nell'ultimo video ci siamo lasciati con ancora installato sul mio PC Ubuntu 10.04 E allora vi avevo promesso di ritrovarci, di rivederci dopo il lavoro di installazione del nuovo sistema operativo Della nuova versione di Ubuntu 12.04 E puntualmente eccomi qua pochi giorni dopo il rilascio Siamo al 2 maggio, Ubuntu è stato rilasciato proprio il giorno 26 aprile Qualche giorno è passato ma insomma tra fare il lavoro, mettere a posto le prime cose del PC E potermi presentare registrando il video, qualche giorno è passato Ecco quindi eccomi qua E oggi mi sono anche messo, in onore di Ubuntu Mi sono anche messo in divisa come potete vedere Una bella polo con i colori societari di Canonical Di Ubuntu con l'arancione tipico qui sul colletto E il logo griffato qua, lo vedete Spero che ecco, lo vedete Ubuntu col suo bel logo qua Arancione Una bella polo elegante per presentarmi a voi Ecco qua Finita l'introduzione Passiamo al tema di questo video Che come il precedente Non vuole spiegare nulla di particolare Ma semplicemente dare qualche impressione iniziale E ricollegarmi appunto all'ultimo video Un po' come chiusura del cerchio Per ripartire con una nuova avventura con Ubuntu 12.04 Allora mi sono preso qualche nota qui Se no mi dimentico sempre Mentre parlo cosa devo dire Allora, è andato tutto bene? Sì, certo, è andato tutto bene Io, come sapete, prediligo l'installazione da zero All'aggiornamento Perché l'operazione di aggiornamento Come ho già avuto occasione di dire È piuttosto delicata Può andar bene come può anche non andar bene Benché negli anni sia migliorata L'affidabilità di questa operazione Direi che tuttora è comunque delicata E a mio parere da preferire L'installazione da nuovo E così io ho fatto Allora Dicevo è andato tutto bene E posso anche mostrarvi così come curiosità La sequenza di screenshot E quindi di videate delle schermate Che ho ripreso proprio, diciamo così In diretta durante l'installazione Quindi questi sono proprio gli screenshot Che mi sono preso Mentre stavo effettivamente Installando il mio nuovo Ubuntu 12.04 Ecco, vedete anche qui La data Il 29 Quindi Ubuntu uscita È stata rilasciata al 26 E io tre giorni dopo Mi sono scaricato le immagini Chiavetta USB preparata Con il buon vecchio Ubuntu 10.04 E poi Innestata la chiavetta E avanti Partito il wizard Ovvero la sequenza Di installazione L'assistente di installazione Che consta Come ben sappiamo In pochi passi Semplici passi Di cui il primo È scegliere la lingua Eventualmente leggere le note di rilascio Ecco qua Nostro caso Italiano Poi Secondo passo Se ci sono i tre vistini qui Andiamo benissimo Che sono La premessa tecnica Per riuscire Ad installare Senza problemi Ubuntu Quindi Vedete Spazio minimo Di spazio libero Sul disco Che ci sia Un collegamento Alla corrente elettrica Del PC Questo È fondamentale Perché Dovessimo Affidarci solo La batteria Per esempio Di un portatile Come il mio caso Qui Se la batteria Finisce In mezzo Alla procedura Risultato Rifare la procedura Quindi Non è proprio il caso Quindi collegarsi La corrente elettrica E che ci sia Una connessione Ad internet Questo per scaricare Aggiornamenti Pacchetti Sulle lingue Per poter avere Per esempio L'italiano Già completo Subito E quindi Durante Lo scaricamento Scusate Durante l'installazione La procedura Di installazione Va già A prendere In rete In internet I pacchetti Necessari Per completare Al meglio L'installazione Già da subito Poi Ci sono due opzioni Qui che io ho scelto Entrambe Ho attivato Entrambe E sono Quella di scaricare Eventuali aggiornamenti Che nel frattempo Nei primi giorni Sono già usciti Quindi scaricarli Già Durante Scusate Durante L'installazione E Installare Già subito I software Di terze parti Per leggere I soliti MP3 E altri Formati proprietari Che come ben sappiamo Per questioni di Licenza A livello mondiale Canonical Sceglie Di non includere Già di base In Ubuntu Ma ognuno A seconda Di come È la legislazione Del suo paese Può decidere Di installarli o meno O se può Installarli o meno Allora Andiamo avanti Quindi questo era Il secondo passo Terzo passo Quale installazione? Io Ecco qua Dopo due anni Di Ubuntu 10.04 LTS Passo ad Ubuntu 12.04 LTS Quindi voglio eliminare Ubuntu 10.04 Sul mio disco E quindi Pulire totalmente La situazione Ripartire da zero Ho scelto questo Andiamo avanti Quarto passo La scelta del disco Anche qui Io Non mi complico la vita Creandomi partizioni Non partizioni Separate Per la home Non la home Scelgo il disco intero Lascio fare tutto a lui È la modalità più comoda Per installare Qui mi riconferma Elimino Ubuntu 10.04 E reinstalla Sì È quello che volevo Il disco È il primo Questo PC Il mio portatile Tra l'altro Ha due dischi Da 500 giga Separati Il sistema operativo Io l'ho sempre messo Sul primo Praticamente Vedete SCSI1 Scasi1 Quello che io considero Per me Il primo disco E il secondo Invece Ho dei dati Quindi non lo tocco Non l'ho riformato Niente Resta lì Con i suoi dati E quindi Qui non devo far Praticamente nulla Devo solo premere Il pulsante Installa Per far partire La procedura Quindi quinto passo Inizia Il sistema L'assistenza L'assistente Di installazione Inizia Inizia a analizzare I dischi A fare Prima operazione Intanto chiede La località Dove si è Per impostare I formati Delle date Gli orari giusti Io quindi Svizzera Zurigo Sono in questa Latitudine Poi continua Andiamo avanti Sesto passo La tastiera Altro punto importante Nel mio caso Tastiera svizzera Qui sotto Provo un po' i tasti Con le accenti Non accenti Le parentesi Se tutto a posto Perfetto Continua Settimo passo Qui si mette Il nome Per esteso Ormai il mio Lo conoscete Il nome Del computer Questa volta Ho scelto Nicola Pangolino Il mio user La mia password Che come potete vedere È stata scelta bene Perché viene ritenuta Password robusta Poi importante Almeno per me Come ho già avuto modo Di spiegare In un video Passato Richiedere sempre La password Per accedere E in più Cifrare La cartella personale Cifrare Vuol dire Crittografare I dati Della mia home In modo che ci sia Bisogna di una chiave Per accedere I dati In formato leggibile Se no Sono crittografati Se mi rubano Il portatile I dati Sul disco Quelli personali I miei Nella mia home Sono comunque Crittografati E non leggibili Così in formato Umano Diciamo Poi Andiamo avanti Qui Siccome il mio portatile Ha già una Webcam integrata Che è poi quella Che mi sta riprendendo In questo momento Mi sta riprendendo E io vi sto guardando Negli occhi Attraverso questa webcam Del portatile E allora C'è un passo in più Dove Viene già chiesto Quale immagine associare Se si vuole associarne una Alla propria User Quindi Ovviamente Su un pc Possono essere definite Più user Ognuno può avere Il suo simbolino Il suo avatar Ecco Io non ho scelto Me stesso Come vedete Qui ci sono Ma ho scelto Il classico Solito Pinguino Quindi qui vedete Qui in cima Che appaio Con il pinguino A fianco Il mio user Nella mia sessione Che sono Che attiva adesso Quindi niente Qui ho scelto Il pinguino E poi Continua E voilà Adesso è finito Erano praticamente 8 passi Perché c'è anche La webcam Che si è attivata 8 passi Semplicissimi Avete visto Adesso da qui in avanti Ubuntu Diciamo Fa un po' di pubblicità Se stesso Ci sono delle slide Delle diapositive Che passano Spiegando un po' Le funzionalità Che vi ritroverete Nel sistema E dovete solo aspettare Qui in basso C'è una barra Che continua Va avanti Va avanti Finché il sistema È installato In linea di massima Ci mette Scusate Ci mette Almeno sul mio Portatile Che ormai è già vecchio Di 4 anni Più o meno Ci mette Circa Diciamo Calcolando un po' tutto Un quarto Tra i 10 minuti Un quarto d'ora L'installazione Da zero È completata Poi È finita Alla fine di tutta questa procedura Uscirà una finestra Non questa Una finestra Con scritto Installazione completa Riavviare Praticamente Per iniziare ad usare il sistema Ed è finita lì La prima volta Che si riavvia Siccome ho scelto Di criptografare La mia home I miei dati Cosa succede Succede che Dopo qualche istante Dopo il primo login Quindi il primo accesso Al desktop Dopo qualche istante Esce questa finestra Che spiega Che è importante Salvare Stampare Salvare da qualche parte In un luogo sicuro La passphrase Cioè la frase La sequenza di codici Alfanumerici Che serve a Decriptografare I propri dati Non sto qui a spiegare tutto Perché l'ho già spiegato In un video precedente Comunque Proprio in due parole Una volta che la home È criptografata Ha bisogno di una chiave Per poter rendere Leggibili i dati In formato Che io chiamo umano Rispettivamente Per criptografare Quindi renderli Illeggibili Questa chiave Naturalmente Se è persa Sono perse anche i dati Se si dovesse Avere necessità Di accedere In altro modo Che non Nella login normale Perché succede un problema Bisogna recuperare i dati Del proprio disco Perché magari Si è rotto in parte Non parte più il sistema Qualsiasi problema ci sia Se c'è bisogno Di accedere In modo alternativo Ai propri dati C'è bisogno Di questa passphrase Cioè di questa Frase di codifica E decodifica Per poter decodificare Decodificare E accedere I propri dati Nuovamente Ecco Questa è l'ultima cosa Diciamo La coda dell'installazione Per chi Attiva anche La criptografia E io la consiglio Tra l'altro Io la consiglio È una piccola complicazione In più Ma Dà molta sicurezza In più Sui propri dati Il proprio pc Fisicamente Può essere Rubato Perso Dimenticato Ma i dati sono In formato protetto Voilà Questo era quello No Qui si ricomincia Volevo mostrarvi Solo la sequenza Ripeto Questi screenshot Queste immagini L'ho proprio prese Ecco C'è stato Un attimo Di pausa Nel video Sarà Kazam Che è andato Un attimino In crisi Durante la registrazione Pazienza Scusate Dicevo Questi screenshot Queste immagini Sono State prese Proprio in diretta Durante l'installazione Quindi non l'ho presa Da chissà dove Ma proprio durante La mia installazione Ecco Quindi in sé Installazione È andata Tutto bene È andata Tutto bene Poi Problemi Ce ne sono Di problemi Vista che Ubuntu 12.04 È stata rilasciata Di fresco È vero Che gli sviluppatori Canonica Hanno ripetuto Per mesi Che L'obiettivo Di questo rilascio Era La precisione Precise Pangolin Il nome La precisione Quindi L'evitare A tutti i costi Qualsiasi Bac Qualsiasi Imperfezione Ecco Però Lo sappiamo benissimo Ogni Opera Umana È un'opera Umana In quanto tale Non può essere Priva fino in fondo Di problemi In effetti Qualcosina Non chissà che Grave Comunque Qualcosina In realtà C'è Che deve essere messa a posto E sarà messa a posto Sicuramente Nelle prossime Settimane Dunque Un problema Di realità Non è Non è a carico Di Canonica Non è a carico Di Ubuntu Non è a carico Di nessuna Distribuzione Nel Linux Ma è questo Che c'è L'ultima versione Dei driver grafici NVIDIA Rilasciati quindi Per schede grafiche NVIDIA Ha un problema Ha un problema Che per alcuni modelli Di schede NVIDIA Appunto Non funziona Del tutto Oppure funziona Malissimo È molto lento Reagire Il video Ed è un problema Altri modelli Funzionano in altro modo Nel mio caso Io ho proprio NVIDIA Però Immagino Che visto che funziona Non rientri In quei modelli Che hanno il problema Probabilmente Mi è andata bene Vabbè Oppure che il PC In come essere un po' Vecchiotto I modelli Di cui si parla Sono più nuovi Comunque È in lavorazione Una soluzione Da parte di NVIDIA Stessa Perché questi sono Driver proprietari Come sappiamo E quindi bisogna aspettare Che l'azienda NVIDIA Appunto Risolva il problema Per tutto il mondo Linux Quindi questo c'è Per alcuni Che al momento Si dovranno Tra virgoletta Accontentare Di usare Magari Unity 2D Cioè quello Senza accelerazione Grafica Perché appunto Questi driver Danno problemi Temporaneamente Arriverà la soluzione Al più presto possibile Poi c'è stato Un problema Nei primi giorni Che si è risolto O è iniziato A risolversi Come scrivo qui Solo il pomeriggio Del 30 aprile Quindi rilascio Il 26 E il 30 Ha cominciato A rifunzionare La connessione Verso U1 Cioè Ubuntu 1 U1 in inglese Ecco E Questo problema È dovuto O è stato dovuto Alla grossissima richiesta Di connessioni Da parte di tutti gli utenti Che hanno Come tutti i rilasci Si va a scaricare Subito Nei primi giorni Perché non si resiste L'immagine ISO Si installa Si vuole magari crearsi Il proprio account Ubuntu 1 Che prima non si aveva Oppure si vuole Riaccedere Come era il mio caso A un account Già esistente E non rispondeva Ci ha messo Per scaricare Pochi K Ci ha messo Praticamente Una giornata Il 28 O il 29 E appunto Ho aperto Io stesso Un problema E mi è stato risposto Che in effetti Si sono Ovviamente Accorti Che la banda Di rete Che hanno messo A disposizione Non era sufficiente Per sopportare Tutto il carico Tutto il picco Di carico Di primi giorni E quindi Ubuntu 1 Per qualche giorno È proprio stato Uno strazio Una tortura Usarlo Mentre nei mesi precedenti Io ho caricato Un che giga Di roba Funzionava Egregiamente A pieno A pieno carico Di rete Ecco qua Ci si può chiedere Se bisogna fare Una critica Canonical Per non aver Dato sufficientemente Banda di rete O server O non so Cosa ci stia dietro Oppure no Ecco Probabilmente Dal punto di vista Dell'utilizzatore Finale È chiaro Che lui vuole Il servizio Vede che non c'è Rimane un po' perplesso Anche un po' stizzito Chi lo sa Però effettivamente Con un ragionamento Più aziendale Visto che Dare banda Di rete Non è gratuito Bisogna pur chiedersi Se è il caso Di Bisogna chiedersi Se è il caso Di Magari Ampliare i server La rete Pagare Non so quale cifra In più Per garantire Anche in quei giorni Di picco Quei pochi giorni Di picco In del 26 Al 30 Fanno tre giorni E mezzo Di crisi Di rete E poi tornare Quasi vuoto Quasi vuoto Solo ho recuperato Delle parti Non mi sono ancora Deciso Di riattivare La sincronizzazione Delle cartelle Perché appunto C'era questa Crisi Poi Crisi di rete Poi Ho fatto altre cose Ho fatto alcune impostazioni Qui Varie impostazioni Che magari In un prossimo video Vi riassumerò E quindi Per ora Ho lasciato perdere Sicuramente Nei prossimi giorni Vedrò di Riattivare La sincronizzazione Delle cartelle E recuperare Sul disco locale I miei dati Ecco Poi Altri piccoli Problemini Che sicuramente Non sono bloccanti Uno dei quali È la parola Tutto che non c'è Nella dash E solo nell'inglese Appare all Cosa intendo Con questo Vediamo un po' Se apro La dash Ecco Spero che Casam Ma sempre Qualche problema A mostrare La dash Ecco Vedete che Non so perché Ma Casam È un bel prodotto Ma quando bisogna Visualizzare Queste parti Dell'interfaccia Ha i suoi problemi Comunque Ecco Se noi Andiamo A filtrare Delle categorie Vedete che ci sono I tre puntini Qui In realtà Nell'interfaccia In inglese Appare all Cioè tutti Quindi Tutte le categorie I puntini Possono anche Essere intuitivi Nel senso che Si capisce Che vuol dire Che voglio Selezionare tutto Ma in realtà In ogni lingua Dovrebbe apparire Appunto Tutto E nelle altre lingue Quello che è Il corrispondente E questo non c'è Questo è un difetto Diciamo così Grafico Di presentazione Della dash Che c'era già Prima del rilascio E che sicuramente Per questione di priorità Di altri bug Più importanti È stato lasciato Al dopo Poi c'è ancora Un altro problemino Che adesso Non vi posso far vedere Perché sono Nella sessione Unity 3D Comunque Fidatevi E così C'è un bug Un problema in corso Anche per quello E si tratta Si tratta di cosa Si tratta di Si tratta di Le icone In Unity 2D Alcune icone Hanno delle caratteristiche Grafiche Che Fanno sì Che nella dash Di Unity 2D E anche qui Nel launcher Di Unity 2D Non appaiono Appare L'icona standard Col punto di domanda Ma non appaiono Le icone Che normalmente Appaiono qui Cioè praticamente Se io uscissi Adesso Dalla sessione Unity 3D Ed entrassi Nella sessione Accedesse La sessione Unity 2D Vedremo qui Che sicuramente Non tutte Ma Qualcuna Di queste icone Non ci sarebbe Ci sarebbe Un bel punto di domanda Al suo posto E' un problema Anche questo Chi lo sa Problema in corso Ripeto Anche questo Un po' come quello sopra Non è molto grave Ci si convive Si può aspettare Tranquillamente Che arrivi Qualche rilascio Di versione Che risolve Ecco Questo E' quello Che volevo dirvi In questo video E' stato un po' difficile A causa Dei capricci Di Kazam Comunque Pazienza Vedrò O Non so Se vado avanti Ad usare Kazam O se Ricomincerò Ad usare Il terminale Con un mio comando Comunque Alla fine Ce l'abbiamo fatta E L'ultima cosa Che volevo dirvi E' che Ringraziandovi Comunque Per la fedeltà Con la quale seguite E vi iscrivete Al mio canale Perché In effetti Ultimamente Siete aumentati parecchio Mi sembra che l'ultima volta Parlavo di 80 iscritti Siete già ormai in 106 Notevole Grazie E Detto questo Volevo dire Che comunque Al di fuori Del canale youtube Ovviamente C'è una vita Una vita anche professionale Impegnativa A volte più A volte meno Comunque Tutto ciò Non mi permette Ovviamente Di garantire Una produzione regolare Di video Quindi Io sono iscritto A vari canali Vedo che ci sono Colleghi Che addirittura Fanno video Uno o più di uno Tutti i giorni Alcuni garantiscono Un video alla settimana Due alla settimana Tre Quattro al mese Io non posso garantire Questa costanza Quando ho l'argomento Me lo tengo lì Mi preparo un attimo Faccio il video Può passare una settimana Due Un mese Chi lo sa Comunque Man mano Come vedete I video crescono Al loro ritmo Io ci sono Anche se C'è una pausa Fra un video e l'altro Non preoccupatevi Io ci sono sempre Magari ho altre cose da fare Altri impegni Non sempre si ha voglia Di mettersi a registrare Come sto facendo adesso Perché è anche impegnativo Va bene Questo video non ha Un argomento particolare Ma se devo spiegare qualcosa Devo pure anche prepararmi Un po' prima E tutto questo Fa sì che Appunto Vi volevo semplicemente dire Che Non posso sempre Come dire Garantire Una produzione regolare Di video Entro certi termini Ecco Quindi Aspettatevi Che i video Arrivino Ma Con il loro ring Ecco Ringraziandovi Naturalmente Per l'attenzione Vi do appuntamento Ad un prossimo video Che Sarà sicuramente Rientro La normalità Senza più La mia presenza Indiretta Grifata O meno Però Senza più me Ma Con un tutorial Che spieghi Qualcosa Un po' Come siamo abituati In questo canale Da sempre Grazie E alla prossima Grazie a tutti